cazzi c'è la testa dura Marco invece che guardi, tagliate la pianta sto tenendo su la moto se io la mollo va per terra vuoi provare? sapevo che lui faceva così non mollarla vuoi la pinza aspetta, allarga le alette no, non devo allargare niente se no poi quando esce è troppo largo c'è i denti buoni, fai meccanico fiamma se li li fai il problema è che adesso mi tiro anche i baffi insieme quando tiro tiro fuori tutto i baffi tagliali, non è necessario ma che dov'è anche in Svizzera? non lo fanno passare questo uomo turco vedi che sei già chiuso la colla lì è dai fai svelta a me i denti che vuoi gliela metti dopo spara dentro spingi, spingi ok troppo è spinto ferma dammi la pinza come cazzo ha fatto uscire sai cos'è la colla? la colla non va messa perchè fa più la colla perchè mi è uscita subito da qua invece non deve metterci la colla no figa dove l'hai messa? a casa la prende la casa la ritiriamo fuori perchè deve uscire piegata invece non uscire perchè gli ha messo la colla sempre un solito figa ne combina uno a giorno vabbè abbastanza no vedi che sto fermo lui deve uscire dritto ci avete una pompa? ci abbiamo tutto ci l'ha detto ce l'ho detto perchè ce l'ho che vuoi? starda zampini non impari non impari uguale deve entrare giusto così deve entrare bravo ho voluto l'esagerato tirarlo fuori subito invece dovevo lasciarlo entrare ok io la tengo quando aspetta la vuoi togliere adesso dimmi quando vuoi togliere io la tengo io mi addendo un po' di più bravo farlo sparire un po' di più buono 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 ok non si che è natale non fa niente questo questo che ti tiene aderenza quando sei adesso? questo tiene? no dopo a casa col seghetto baston va via da sola non ti hanno? si a parte che va bene ti metto questa no no non serve più niente seghetto tagli la gomma invece questo qua sparisce da sola era bagnata non so se tiene ma sta scherzando allora vabbè scatoletta spapi serve la pompa adesso ti trovi una bella scatolettina più piccola e fitti dentro tutto questo puoi farne a meno di tenere la manetta che non serve un cazzo o tiri via addirittura così ti occupa meno spazio fatto che le ho prese cazzo